Ciao ragazzi, siamo qui a Vienna, siamo venuti a prendere questo splendido cucciolo dei cuccioli di Carlotta, Ronny, e ce lo portiamo a casa con molta soddisfazione e molto amore, e che dire? Vi ringraziamo tantissimo, siamo davvero molto molto felici. Grazie a voi. Ronny, dove te ne vai? Con la mamma. Grazie mille ragazzi, buon riesco a scuola. Grazie. Salutiamo tutte le famiglie, ciao! Anche te, ciao!